lenti fumatori buongiorno da moreno come sospettavate non ho interrotto la mia esplorazione tra i sigari fatti a macchina quindi entry level o qualcosa in più sigari disimpegnati a costo relativamente basso infatti oltre oltre a tutti quelli che troverete nella playlist sigari italiani e che abbiamo esaminato negli ultimi mesi ho introdotto un altro paio di assaggi e sperimentazioni anche seguendo alcuni vostri consigli in realtà questo qui che vedremo oggi e di cui parla questo video non è un primo assaggio è un sigaro che conosco tant'è che mi sono fatto di quelle risate allora perché non ho ancora trovato il modo di inserire pezzi di miei video in un video infatti chiedo a qualcuno di voi esperto ditemi come si fa aiutatemi perché voglio farlo perché secondo me ci possiamo fare delle risate incredibili vedendo i miei video vecchi cioè veramente io mi sono ucciso dalla vergogna e dalle risate perché volendo parlare appunto di questo italico il buttero di mosi moderno poificio del sigaro italiano mi son detto ma io l'ho già fatto un video su sto sigaro qua andiamo a vederlo era di boh cinque anni fa non so proprio agli inizi forse il terzo quarto video di questo canale al di là che avevo una dialettica e un linguaggio che praticamente il forbitissimo il massimo che sono riuscito a dirvi di questo sigaro è che è rotondo è rotondo è rotondo è rotondo è morbido è rotondo è rotondo è morbido è morbido è rotondo è morbido e rotondo è morbido e rotondo questo sigaro però non solo ecco comunque non che io sia migliorato così tanto però quantomeno mi interfaccio a voi in maniera un poco più spontanea allora mi presentavo in questo video con un giaccone si probabilmente faceva freddo però avevo questo giaccone un cappello che mi deformava tutta la testa sembrava che sotto avessi dei di grasta di due metri un angolo di ripresa veramente stranissimo si vedeva di tutto dietro dei cuscini vabbè non che io ora sia diventato un professionista però un pochino in più mi 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 noto noto un miglioramento vabbè quindi trovate già un video sul mio canale con il buttero però vabbè non credo che al di là della morbidezza della rotondità non credo che possa darvi molte altre informazioni vabbè ve lo linko qua sotto se volete farvi anche voi due risate quindi è un sigaro che conosco già ho già fumato però secondo me vale la pena riparlarne in questo contesto appunto di esplorazione sigaro disimpegnato e poco costoso e fatto a macchina innanzitutto il costo costava 3 euro quando ho fatto quel video adesso costa 3 euro e 50 e per quello che costa è un sigaro fenomenale ma anche paragonato ad altri sigari ad esempio paragonato anche al tradizionale e al classico che abbiamo già visto e trovate nella playlist io devo dire che in questo qui ci trovo qualche cosa in più sarà il fatto che mi approccio a questo sigaro non aspettandomi poco niente dato il costo e ottengo di più ecco forse delle volte anche il nostro approccio la nostra modalità di approccio al sigaro comunque un'altra cosa che notavo su questa confezione è questa scritta il primo sigaro italiano con tabacco kentaki tostato infatti io l'ho trovati ora ne è rimasto solo uno ma potrete notare da questo sigaro e dalle foto che dopo vi metterò che è molto scuro più scuro di come lo ricordavo può essere che questa tostatura abbia dato un carattere diverso al sigaro io per fortuna che sono un un semi disordinato ho trovato una scatola in macchina che avevo abbandonato proprio risalente a quel periodo infatti notate alcune differenze innanzitutto il timbro del monopolio e anche alcune differenze vabbè estetiche della scatola però in questo qui e ce n'è ancora dentro un esemplare non c'era non c'è la scritta che vi ho fatto vedere poc'anzi adesso questo sigaro qui era abbandonato in macchina quindi come vedete ha una fascia scolorita sembra che non so cosa gli sia successo vediamo se riesco a mettervelo a fuoco eccolo qua è molto ma molto più chiaro al di là del tempo che probabilmente l'ha imbruttito e slavato anche se è stato al chiuso vedete che c'è una differenza notevole e sulla scatola di questo vecchio sopra non c'era la dicitura appunto della tostatura adesso non lo so io se hanno cambiato il processo e tutto però fatto sta che comunque rimane un sigaro con una maturazione bassissima un costo bassissimo ma che regala una piacevolissima fumata disimpegnata a tutti i sapori che troviamo anche negli altri ambasciatore italico il tradizionale il classico ovvero questa questo sentore erbaceo molto molto spiccato che va a prendere qualcosa di aromatico che potrebbe essere liquirizia potrebbe essere qualche pianta aromatica tutto ciò fa sì che lo stallatico l'amaro e i sentori tipici del kentaki si facciano un po' indietro non sono assolutamente assenti ma si fanno un po' indietro è un sigaro leggero vi dico e piacevole assolutamente piacevole di dimensioni un po' più strette rispetto ad altri sigari è anche un po' più lungo a questo piede che va a rastremarsi di più insomma è un sigaro che sto fumando molto molto piacevolmente quindi ve lo butto lì e ve lo consiglio provatelo fatemi sapere cosa ne pensate l'altro che vedremo prima di una summa finale di un resoconto finale su quelle che sono le mie impressioni del sigaro fatto a macchina di fascia bassa che mi è piaciuto di più prima di tirare queste conclusioni parleremo vi anticipo già anche del toscanello xxl solamente del blend 2 e del blend 3 molto probabilmente perché il blend 1 lo provai ma non mi piacque molto adesso vediamo se ho tempo e voglia riproverò anche l'1 ma sicuramente sto già provando il 2 e il 3 quindi aggiungiamo e vi consiglio anche l'italico il buttero perché questo qui veramente ha un prezzo super basso e una offre un'esperienza di fumata molto molto interessante ciao da moreno ciao ciao